What's up signori, sono Johnny Creek, oggi qua in un nuovo video, no scherzo ragazzi, bella, sono Alex, oggi vi volevo dire che il torneo di DNA ha inizio, il torneo di DNA ha inizio ragazzi, il video ve lo lascio qua sotto con gli abbinamenti in descrizione per chiunque si sia iscritto, e boh, ciao, questo era tutto, e volevo dire solo questo, vi lascio il video in descrizione, vi ho fatto il mio compagno di team, MST Megatesh, e boh, bella.